La conoscenza di Valentina Bendicenti La bella giornalista Sky affermata professionista e giornalista presso l'omonima emittente Insomma uno dei volti noti di Sky TG24 Chi è Valentina Bendicenti? La donna è nata a Roma il 7 marzo del 1971 e ha studiato a Roma sia alle superiori Liceo classico che all'università dove ha frequentato il corso di giurisprudenza presso la Sapienza Valentina Bendicenti in attesa di condurre il telegiornale della sera Ma la sua prima passione non è sicuramente stato il giornalismo Infatti Valentina Bendicenti è stata una giocatrice di tennis a livello professionistico Probabilmente aiutata anche dalla sua altezza Infatti è alta ben 1.80 cm In televisione Valentina ha iniziato a lavorare verso il 1991 in retti locali romane fino al 2000 Quando fa il salto di qualità andando a condurre il telegiornale di Stream Occupandosi principalmente di sport nel particolare calcio Ma per il vero salto di qualità bisogna aspettare la fine del 2003 Quando viene notata da Sky dove passa a conduttrice insieme A salvo sottile l'edizione del TG24 Sempre presso questa emittente Valentina Bendicenti diventa in vita di guerra In teatri molto pericolosi come Baghdad e Nassiria Ma se della vita professionale della donna si sa praticamente tutto Della sua vita privata non si sa praticamente nulla E sicuramente se ha un compagno o un marito o altro è stata molto attenta a tenerlo nascosto Su Instagram è molto seguita oltre 17.000 follower e i suoi fans ci tengono veramente molto a lei E una donna molto caparbia Ma al tempo stesso molto gentile Bella ed elegante e ovviamente con la sua statura non passa inosservata E una collega della giornalista Sky Monica Bertini Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti